Ciao a tutti amici di Android Geek, oggi torniamo a occuparci di rom cucinate, abbiamo pensato di recensire una rom per HTC G2 o Desire Z che dir si voglia, si tratta della virtuos 4 beta, ovvero una rom basata su ice cream sandwich, l'avevamo già trattata un paio di mesi fa, però quella era una rom alfa, questa è una versione release candidate 3, quindi è candidata ad essere una versione stabile e rispetto alla vecchia è molto più reattiva, devo dire che è molto buona, utilizzabile nell'uso quotidiano, ha giusto qualche ralentamento quando accediamo alla schermata delle applicazioni o dei widget, in questo caso no, però qualche volta abbiamo qualche ralentamento. L'interazione è buona, proviamo a mettere insieme un widget per presentare la nostra interfaccia, vedete come non c'è nessun problema, widget che sono ovviamente ridimensionabili. Troviamo un po' le tipiche impostazioni di ice cream sandwich, quindi ad esempio possiamo ad esempio accedere alla schermata che ci mostra l'utilizzo dei dati, impostare dei limiti per quanto riguarda il consumo dei dati, il launcher non è con l'originale di ice cream sandwich, infatti ce ne accorgiamo subito ad esempio quando entriamo nella tendina delle notifiche e troviamo la possibilità di attivare e disattivare delle funzioni di sistema con un singolo tap. vediamo proprio l'interfaccia che è presente questa, il launcher, che ci dà la possibilità di decidere il numero di schermate, di effetti di transizione e vari settaggi, qualcosa anche a livello di drawer. Inoltre abbiamo la possibilità di overclockare il sistema, quindi il cellulare, lo smartphone, fino a 1920 MHz. Ovviamente è un po' difficile che poi il telefono risulti stabile, io per quanto mi ricordo questo device riesce tranquillamente a tenere i 1536 MHz, a meno con il ROM Gingerbread, oltre secondo me rischiate un po', almeno dal punto di vista della batteria poi non vi dovete un po' lamentare. Di base setta 230, quindi 152 MHz. Possiamo anche decidere un settaggio minimo della memoria RAM, in questo caso 50 MB, significa che se la RAM va sotto i 50 MB liberi, il sistema va a killare e liberare l'ulteriore memoria. Possiamo anche volendo personalizzare qualcosa a livello di batteria, quindi per ottimizzare meglio la batteria. Possiamo ad esempio anche personalizzare il lock screen, insomma c'è tanto da personalizzare. Se vi interessa è una buona ROM in questo senso. Comunque funziona veramente molto bene, il market devo dire è abbastanza fluido, l'ultimo market, ossia il Google Play Store, vedete. Per accedere diciamo al menu di multitasking dobbiamo tenere punto il testone per qualche attimo, quindi poi possiamo velocemente switchare tra un'applicazione e l'altro, in questa maniera. Se vogliamo chiudere un'applicazione basterà appunto tre scena da fuori dello schermo. Navigazione web buona, andiamo sul nostro sito, vediamo, dovrebbe essere già qui presente, eccolo qui. Navigazione web che ovviamente gode del nuovo browser web che è però un pochino modificato, infatti ci sono molte più voci, possiamo ovviamente attivare la modalità PC o meglio la visualizzazione PC e ovviamente possiamo gode anche dell'accelerazione della GPU, quindi della Tremio 205 che ci aiuta notevolmente per quanto riguarda l'esperienza web, in realtà vedete com'è molto veloce, il pincio zoom è molto buono, la rotazione anche, adesso sta ancora un po' caricando, però vedete com'è il tutto è molto buono. Fotocamera, la fotocamera le foto le scatta, a volte ha qualche problema di memoria, vedete com'è, però è usabile. Dicevo, la fotocamera funziona senza che le foto vengono scattate, per la prima volta abbiamo questa schermata nera, dopo praticamente la prima schermata, vedete, possiamo vedere l'oggetto da fotografare. Una cosa che non funziona è la modalità panorama, ancora, così come la modalità video, registrazione video, fa crescere l'applicazione. Funziona bene la parte dell'accelerazione 3D, infatti, proviamo ad esempio un benchmark, proviamo Nenamark, per far vedere com'è i driver del CPU ci sono, infatti, lanciamo e vediamo le prestazioni grafiche. Quindi le prestazioni della 3D 205 sono quelle, 22 programmi a seconda su Nenamark 2, quindi nessun problema, nel caso vogliate un po' giocare ai giochi 3D. Ha qualche problema, trattando quando esce da un gioco 3D. Praticamente usciamo, qualche volta, presento qualche artefattografico, proprio basta riavviare e tutto tornerà ok. Quindi una ROM molto buona, a mio avviso si può utilizzare nell'uso quotidiano, ovviamente c'è qualche limite, c'è ancora un po' da migliorare anche nel livello di ottimizzazione di prestazioni, nell'uso quotidiano, cioè nel sistema, però una buona ROM. Quindi se voi avete un po' la curiosità di testare sul vostro GDUO Desert Z Ice Cream Sandwich, questa Virtuos 4 Release Candy 3 è molto molto buona e io ve la consiglio. E con questo è tutto, un saluto da Matteo di Android Geek. Ok.